Ciao fans della David W. Io sono MaxisAwesome92 e come state passando questi ultimi giorni di vacanze estive? Liberi da impegni, lontani dalle scuole e dal lavoro, vi state finalmente rilassando? Siete andati a rinfrescarvi al mare? Mi fa piacere, fate bene a prendervi cura di voi stessi ogni tanto. E se vi dicessi che andando in spiaggia avreste avuto l'opportunità di incontrare Hulk Hogan, Ric Flair, Macho Man e Vader? Mi credereste? No, e fareste bene. Ma è successo, è successo in una puntata del mitico Baywatch. Mio Dio, Baywatch, chi non lo conosce? La serie tv in grado di insegnare ad un'intera generazione che anche correre può essere molto sexy. Quante diottrie perse guardando soltanto la sigla. David Asseloff, Pamela Anderson e Compagnia Bella non sono semplici bagnini, sono il cuore e l'anima di questa spiaggia. L'elite dell'elite, proteggono quando altri non lo fanno e sanno andare oltre. Eh, scusate, è che proprio non sapevo come parlare in modo non ironico dei Baywatch, così mi sono messo a recitare le frasi del film con The Rock. La cosa che più mi faceva impazzire di questo telefilm, durato ben 11 stagioni, è che non si limitavano a salvare chi annegava. Nell'arco dell'intera serie, in quella spiaggia, c'erano casi di rapimenti, omicidi, traffico di droga, traffico d'armi. Quei bagnini erano più impegnati dell'FBI e della CIA messi insieme. Questo non è salvare le persone, questi sono frigoriferi! Questo è Baywatch, bimbo! Ma questo è ancora un canale dedicato al wrestling. Ecco perché oggi daremo un'occhiata alla puntata di Baywatch, con protagonisti, i wrestling della WCW. Il quindicesimo episodio della sesta stagione, intitolato Scontro tra titani, registrato in concomitanza del pay-per-view WCW Bash at the Beach 1995, svolto proprio sulle rive dell'Huntington Beach. D'altronde, dovevano far valere l'affitto della spiaggia. Pensavate che Infinity War fosse il crossover più grande di sempre, ma quello tra la WCW e Baywatch è il crossover che non sapevate di volere, preceduto solamente da quello dei film della WWE con i personaggi di Anne Barbera. Ma basta perdere tempo e tuffiamoci a bomba in quel meraviglioso periodo storico conosciuto col nome di Anni 90. Questa è la puntata di Baywatch con protagonisti, i wrestling della WCW, Bash at the Beach, Scontro tra titani. Tutto inizia con Alcogan e Macho Man Randy Savage impegnati in una gara con le moto d'acqua. E nemmeno dopo dieci secondi dall'inizio dell'episodio, abbiamo già la prima inquadratura in slow motion. Immaginatevi il doppiatore che, ai tempi, senza magari saper nulla della gimmick di Macho Man, si è trovato costretto a doppiare con quell'enfasi Sì, Macho, Macho Man, sì! E niente, mi fa ridere. Ma i dubbi sull'eterosessualità dei personaggi vengono subito eliminati quando l'Hulkster prova a rimorchiare una bella ragazza. Ehi, guarda che pappa! Ehi, Hulk, ti trovo davvero bene! Ehi, sister, vuoi vedere l'Andra the Giant che ho nel costume? Ricordatosi di essere nel bel mezzo di una gara, Hulk lascia perdere la bella bionda e tenta di raggiungere il rivale, ma per un'onda perde il controllo e finisce in acqua, tra l'altro eseguendo una fantastica Flying Elbow Smash. Mi chiedo come mai non l'abbia mai implementata nel suo moveset, ma forse perché se ne è dimenticato subito dopo per via di un trauma cranico. Le bagnine si accorgono dell'incidente e si precipitano a soccorrerlo. E poi c'è chi dice che Hulk Hogan non voleva mai perdere, ma intanto guardate come sta mandando over ben sei ragazzi in una botta sola! E se ne accorge soltanto ora che quell'omone muscolosissimo, abbronzatissimo, con tanto di bandana, biondo e coi baffoni, è Hulk Hogan! Chi pensava che fosse? Curtis Axel quando faceva il suo cosplay? Che succede? Sono arrivato in paradiso? No? Sei all'inferno! E questo è il Diva Search! No no, state calmi, tranquilli, era solo una battuta, quella roba non tornerà mai più, non preoccupatevi. Quello è Macho Man, è il mio campione preferito! What a mark! Anche tu vai agli incontri di wrestling? A volte, anch'io. Le bagnine di Baywatch che vanno ai live event di wrestling? Perché mai dovete alimentare false speranze con le vostre sporche e palesi bugie? Macho Man, completamente ignaro che il suo amico ha quasi rischiato di morire, si sente un po' tagliato fuori e tenta anche lui il rimorchio. Ehi Hulk, io ti conosco bene, che cosa ti sei messo in testa? Non avrei intenzione di tenerti queste pollastrelle tutte per te di piantare minasso, vero? Macho Man, dai, la divisione dei Mega Powers per le attenzioni di Miss Elizabeth è successo più di cinque anni prima. Cerca di superarlo! Ok, il pericolo è stato sventato e Hulk Hogan è stato salvato dalle bagnine. Per gli standard di Baywatch questa potrebbe essere anche la conclusione della puntata, ma ci restano ancora 35 minuti da riempire. Scopriamo che Hulk Hogan e Macho Man frequentano ancora la palestra di un centro giovanile della zona e che il proprietario, Sanni, li ha aiutati a rimettersi in carreggiata durante la giovinezza. Quando ero ragazzo, tu e questo posto mi avete salvato. Non avevo scelta. Droga e vita di strada, o un sano lavoro e magari la possibilità di fare fortuna. Saremmo finiti sotto ad un ponte coinvolti nella mala vita. O peggio, dei wrestler. Anche se Sanni ammette di non saper più mandare avanti la palestra, i soldi scarseggiano e presto il posto verrà rilevato e chiuso dal nuovo proprietario. A tal proposito, ho parlato col mio commercialista chiedendogli una rapida e veloce soluzione al problema. Ma far pagare tutti quei ragazzi no? Guardate, la palestra è piena. Ok, magari saranno stati tutti attirati dalla presenza di Hogan e Savage, ma sembra che tutti i presenti stiano usando gli attrezzi. Gratis! Mettete una reception e fate pagare una quota di iscrizione. L'Alkster farebbe pure da sponsor come fece per il suo ristorante. Sentite, non vi preoccupate, mi verrei mettere qualcosa, ne sono sicuro. E invece no, complichiamoci la vita e cerchiamo di raccimolare soldi in modi bislacchi. Cavoli, sembra di essere tornati a guardare Nacoled con Big Show. E sapendo che si tratta di una puntata speciale con dei wrestler, chi potrà mai essere il riccone a bordo di quella limousine pronta a rilevare la palestra? Per quanto mi piaccia l'idea, purtroppo, no, a quei tempi Teddy Biasi non era in WCW. Il proprietario è... Il Nature Boy li informa che è stato lui a rilevare la palestra. In sostanza, è il cattivo proprietario pronto a sfrattare se non gli si danno i soldi. Dove l'affitto? I soldi dell'affitto. Dollar Peggy e Nickelin Mi servono tutti adesso. Ed ecco a chi si è ispirato Tyler Breeze nella South Pole Regional Wrestling. The farm is for sale. Io non sono uno scompeduto, sa? Ho tanti di quei documenti e permessi in regola che presto qui sorggeranno condomini come funghi e sarò tutto mio! Yuhuu! Yuhuu chocolate drink, un altro prodotto delicioso da Yuhuu. Yuhuu! Yuhuu? Yuhuu? Chi l'ha curato l'adattamento? Gualtiero Cannarsi! E anche peggio di quello di Evangelion su Netflix! Senza alcuna recalcitranza, i quattro wrestler decidono che il destino della palestra sarà in palio all'interno del ring. Due incontri, Hogan contro Vader e Macho Man contro Flair. Gli stessi match del pay-per-view Bash at the Beach 1995. Ma guarda un po' che fortuita coincidenza! Che coincidenza incredibile trovarsi qui, eh? Eh sì, perché è così che si risolvono le dispute e le questioni contrattuali nel mondo reale, all'interno di un ring di wrestling. Oltre alla trama dei lottatori, seguiamo anche quella del cast principale della serie. Stephanie esce per un appuntamento col suo ragazzo, un dottore di nome Tom, il quale le fa notare un neo-sospetto che ha sulla gamba. Senti, domani mattina vieni nel mio studio prima di cominciare il lavoro. Non ti dimenticare. Cavoli, siamo capitati all'interno di una puntata sul cancro alla pelle e sui rischi della troppa esposizione ai raggi solari. Per fortuna che hanno modo di mostrare anche dei corpi sani e assolutamente normali. Mi scusi, posso vedere? Guardi che questa è senza filtro solare, dovrebbe usare una crema protettiva se non vuole scottarsi. Grazie. Eh, lo so bene, sono pallido quasi quanto Seamus. Tutte le volte che vado al mare mi cuocio come una ragosta. Non usate una crema protettiva? No. Dovreste metterla invece. E ad alta protezione. Sì, ma ferma, con quale musica di sottofondo me lo stai dicendo? Mi scusi, ha addosso la crema protettiva? Oh, certo, sì. Davvero? Venga, lei la usa. Ok, e riapplicatela con frequenza, soprattutto se sudate o se entrate in acqua. Ho capito, ho capito, va bene, ti compro tutta la crema solare che vuoi, te ne compro dieci scatole, basta che... Te ne vai, mi stai facendo venire l'ansia! Che poi, se si sostituisce il tema del cancro alla pelle con la dipendenza da cellulari, verrebbe fuori un episodio di Black Mirror. Basterebbe dare a tutti quei bagnanti uno smartphone. In questo mondo, in cui ognuno è chiuso in se stesso, è facile perdere di vista le cose reali. Come recuperare da questa botta improvvisa di ansia? Ma con un video sugli allenamenti di Hogan, naturalmente. Ok, sarà anche forte ed altruista, ma non credo che l'Alexter si sia mai addormentato abbracciando un cuscino con i colori della bandiera americana. Eh, se si vuol fare un videoclip su un eroe americano, una scena del genere non può mancare. È tempo di beccarci un'altra predica sui rischi del cancro alla pelle. Però ti starò sempre accanto, non ti lascerò un istante. Ma siamo arrivati al main event della puntata. I due match, gli scontri tra titani, Bash at the Beach. Salve a tutti, benvenuti a Bash at the Beach. Venite all'incontro per salvare il centro atletico dei beni sponsor. Se questo è il modo in cui la WCW promuoveva i suoi pay-per-view, non c'è da stupirsi se ha perso la guerra degli ascolti. Ecco arrivare il motivo principale per cui ho preferito mostrarvi la puntata doppiata in italiano, il promo dei lottatori. Vediamo Hogan, Flair e Savage fare delle interviste, ma specialmente per Macho Man, nella nostra lingua ha tutto un sapore diverso. Sono una torre di forza, un macigno che rotola dal monte, tremante come una scimmia. Il mio avversario fissa mutolo, spazio attonito. Attenuto! Io vivo alla giornata, tu vivi alla giornata? Sì, perché il rischio è una freccia lucente che attraversa il cielo e tu sai perché, co? No, non lo so. Per via del club dei ragazzi, per via di sonno. Non ho capito. Ma fiondiamoci all'interno del ring. Come detto, si tratta delle immagini del pay-per-view WCW Bash at the Beach 1995. I due match, Flair contro Savage e Dogan contro Vader, sono realmente accaduti, ma qui ci vengono mostrati sotto forma di highlights, con degli effetti audio poco poco stereotipati, per non dire che sono stati presi pari pari dai film di Bud Spencer e Terence Hill. Il primo incontro è vinto da Macho Man, ed ora è la volta del match tra Hulk Hogan e Vader, uno steel cage con un evidente product placement della Slim Jim. Non il cage! In palio c'è il titolo mondiale di campione dei pesi massimi della WCW, ma chi se ne frega di quello? Qui si combatte per il contratto di proprietà della palestra di Sanni. Ma prima una piccola curiosità. L'episodio venne mandato in onda il 19 febbraio del 1996, diversi mesi dopo la sua registrazione, nell'estate del 95. La particolarità è che a quei tempi Vader aveva già lasciato la WCW per approdare in WWF. Poche settimane dopo la messa in onda della puntata, avrebbe pure preso parte a WrestleMania XII. Questo significa che, nel bel mezzo della Monday Night War, Baywatch è stato teatro di uno scontro interpromozionale tra le due federazioni. E vi prego di non stupirvi se vi dico che questo è meglio dell'intera Invasion. L'Alkster riesce a sconfiggere il mastodontico Vader, potendo così concedere a Sanni il contratto di proprietà della palestra. Che bel modo per concludere la puntata. Si è diffuso. Sì. Ah, è questo il vero finale. Stephanie che scopre di avere un cancro alla pelle in stadio avanzato. Molto triste. Vabbè, almeno sarà felice di sapere che la palestra è salva. E questa era la puntata di Baywatch con protagonisti i resta della WCW. Bash at the Beach. Scontro tra titani. Che dire, è schifosamente, ma allo stesso tempo squisitamente, anni 90. Hogan, Flair, Macho Man e Vader, oltre che ad intrattenere, sono anche riusciti ad eclissare il resto del cast della serie. Poi col doppiaggio italiano è tutto ancor più divertente. Sembrerò esagerato, ma se proprio siete indecisi, recuperatevi questa puntata, piuttosto che il pay per view da cui è tratta. Tanto sappiamo un po' tutti che il vero Bash at the Beach, l'edizione davvero storica, è quella dell'anno dopo, del 1996, con la nascita del New World Order, l'NWO. Anche se Hogan avrebbe potuto citare il salvataggio della palestra nel suo promo. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Yuhuu! Sei stato fortunato. L'acqua scooter ti è caduto addosso, potevi morire. Tesoro, mi hanno pestato più duramente sorridere. Manifaccia il piacere! Si!